L'edizione 2016 di Comuni Ricicloni Puglia compie un balzo in avanti. Per entrare nell'olimpo della gestione sostenibile dei rifiuti, il raggiungimento dell'obiettivo di legge sulla raccolta differenziata pari al 65% non basta più. Legambiente ha voluto traghettare i Comuni Ricicloni Pugliesi verso la nuova sfida della rivoluzione del secco residuo, da avviare in impianti di incenerimento e in discarica. Ecco perché è stata coniata la qualifica di Comuni Ricicloni Free per le amministrazioni che oltre ad aver superato il 65% di raccolta differenziata hanno anche contenuto la produzione pro capite di secco residuo al di sotto del 75%. Nella non edizione di Comuni Ricicloni Puglia 2016 sono tre i Comuni Ricicloni Free, ovvero Rosseto-Valfortore, Monte Parano e Motta-Monte Corvino, rispettivamente con il 23,91%, 65,64% e 65,46% di secco residuo pro capite prodotto. Nel 2015 i Comuni Ricicloni Pugliesi salgono a 22, ancora una volta in Rutigliano, già premiato lo scorso anno, ad occupare il primo posto della classifica con una percentuale media del 77% nell'anno 2015. Ex equo per il Comune di Faggiano e Rosseto-Valfortore che si piazzano al vertice della classifica diventando Comuni Ricicloni dopo aver ricevuto il premio di seconda categoria nella scorsa edizione. Riconfermati i Comuni di Canussa di Puglia, Cella, Mare e Troia al 70%, Fasano al 66%, Andre la Terza al 65%. Cinque i Comuni che diventano Ricicloni insiniti del premio di seconda categoria l'anno scorso, ovvero Barletta, Poggio Imperiale, San Giorgio Ionico, San Marco la Catola e Cassano delle Murge. New entry di questa gradatoria anche sera Capriola nell'edizione 2014 premiata con la menzione speciale Teniamoli d'occhio.